E questa va, per QSC, per tutti i miei fratelli che la corrono ogni giorno, 3-7-4 cazzo, sia Rosina resti in peace, Gianni resti in peace, rispetto agli OG di qui. Venuto al mondo il 21 novembre, alle 18 in punto sgranavo i miei occhi e scrutavo l'ambiente, per madre e padre assardi, un'altra bocca da sfamare in mezzo agli altri, un altro di mezzo risparmi, un altro impegno, per educare al meglio un bambino che fosse in mezzo a chi dorme, l'unica stare sveglio, sono cresciuto nei blocchi, sono cresciuto con chi, quel venerdì mi è stato accanto mentre ho aperto gli occhi. Ho visto quarto di persona, ma non sono suo figlio ma sono nipote, mia nonna era a quarto in persona, da 15 mesi quarto è morta, dal giorno andò sul Cristo che mi ha dato, sperando che quarto risorga. Prego tutti i giorni, ma non mi bastano più soldi e sogni per poter rivivere tutti i ricordi, dove sono nato e cresciuto, dove vivo e vissuto, perché è bastato un lutto e quarto ha perso tutto. Non sai, come sono cresciuto, come sono caduto, come mi son sollevato dopo ogni lutto, non sai, dove sono vissuto, dove passo il mio tempo, dove vedo il mio quartiere marcire da tempo, non sai, cosa ho fatto di bene, cosa ho fatto di male, quanto vale per non care un Cristo sul piazzale, dove è che trovo la forza per affrontare, la vita di ogni giorno e la speranza per poter sognare. Il tempo passa e il resto resta, guardo foto in blocco, guardo il blocco ma mi blocco, se penso al vuoto che resta, ho provato a lasciarmi tutta alle spalle, ma due palle, non bastano a portarsi una bara alle spalle, mi porto dietro e mi ricordo, mi ricordo ancora la prima trasparta con la mia prima sciarpetta al collo. Sono passati pieni amori, poi le superiori, il fatto ha fatto sì che rafforzassi le mie convinzioni, ciò che ho fatto l'ho fatto per quarto, mi faccio in quattro, per la pb è parte di me, per lei mi faccio in quattro, per la 374, perché è andato via, perché è il foglio di via, è come me, odio alla polizia, l'amore per la mia città mi lega a lei, so che in fondo tutto l'oro del mondo sarà secondo a lei, la mia lei, la mia lei, la mia donna, per come suono e come sono, grazie al quarto e grazie al nonno. Come sono cresciuto, come sono caduto, come mi son sollevato dopo ogni lutto, dove sono vissuto, dove passo il mio tempo, dove vedo il mio quartiere marcire da tempo, cosa ho fatto di bene, cosa ho fatto di male, quanto vale per non care un Cristo sul piazzale, dove che trovo la forza per affrontare, la vita di ogni giorno e la speranza per poter sognare. Yeah, grazie nonna, yeah, un nome, una tradizione, una città, un gruppo, 374, 374, yeah, perché si sente di quarto, perché di quarto, yeah, bibel, scuato, santa lei. Ciao, ciao. Ciao.